Una vera e propria festa con tanto di musica, tutto volume ed alcolici dopo il coprifuoco e così scatto il blitz dei carabinieri. È successo in Valtiberina, in un parco di Sansepolcro dove sono intervenuti i militari del comando stazione di Bagliate d'Alda impegnati in un servizio di controllo del territorio. Qui sei giovani, tutti con precedenti alle spalle, stavano infatti consumando alcolici mentre ascoltavano musica ad alto volume. All'arrivo della battuglia i ragazzi si sono subito mostrati estremamente ostili e difficili da contenere, evidentemente perché avevano alzato troppo il gomito. I militari sono comunque riusciti con grande pazienza ad identificarli, riconducendoli alla calma ed invitandoli a tornare ognuno a casa propria. Tutti e sei sono stati ovviamente sanzionati per aver violato le disposizioni anti-covid e denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ubriachezza molesta.